Con Forrai, Daily Basket e Lega 2, una bella vittoria nell'anticipo del terzo turno di campionato a Frosinone con Veroli. Sì, molto contenti dopo questa vittoria. L'avevamo giocato bene nelle prime due partite contro due squadre molto forti, però oggi, giocando sempre la stessa maniera, con un grande carattere, siamo riusciti a portare la classe, quindi siamo molto contenti. Per te una doppia cifra, una prestazione importante anche per Garri. Ci voleva questa vittoria per voi, per la vostra classifica e soprattutto vincere in trasferta. Quest'anno in Lega 2 non sarà facile per voi come matricola. Sì, diciamo che ci è toccato un calendario un po' difficile all'inizio, però noi ci siamo in Erdog City, abbiamo giocato con fiducia, si è visto, la squadra ha dimostrato carattere, quindi questa vittoria fuori casa ci darà ancora più fiducia di primo. Quindi, contenti per la prestazione di tutti quanti. Io mi sono partito benissimo, però dopo sono venuto a rifarmi bene, quindi sono anche contento della mia prestazione.